Eccoci qua finalmente, guardate che cosa ho qui, questo cartellone gigante! Già qualche giorno fa ve l'avevamo mostrato ma di dietro, proprio come adesso E vi avevamo messo tantissima curiosità, ma finalmente oggi è il momento di scoprirlo Vi abbiamo già detto che è bellissimo, siete pronti? È il momento di girarlo Oh, vado, vado, siete pronti? Vediamo, 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 ancora qui, ci siamo noi Guardate, non è bellissimo? Ci sono io e c'è anche Dominique, sono grandissimo, quasi dimensione reale Sì, devo dire che ci sono io Ma avevate già capito che c'eravamo noi, ma guardate qui sotto, ci siamo noi in versione cartoon E lì c'è il dottor Gini e anche il dottor Timothy E poi in basso c'è grandissimo il nostro logo di insieme Cosa ne pensate? Vi piacciono i nostri personaggi cartoon? Guardate, non pensate che mi somigli davvero tanto Sì Dominique, sei proprio tu Vestita di rosa, con i capelli ricci e gli occhi marroni Ma 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 è spaventoso, è uguale Anche il mio mi somiglia, col ciuffetto e con due occhi Due occhi, tutti hanno due occhi E la maglietta gialla, ecco Sì, proprio come adesso E so che l'avrete già notato, ma ci sono anche nella maglietta che ha indosso Eric Eccoli qua, ci siamo tutti e quattro Guardate, vogliamo parlare del dottor Timothy e del dottor Gini Anche loro, ci somigliano tantissimo Lui è sempre arrabbiato Siamo super felici di presentarvi finalmente Eric, Dominique, dottor Timothy e dottor Gini In versione cartoon Fateci sapere che cosa ne pensate È la prima volta che li vedete ufficialmente Ma da adesso li vedrete tantissimo E adesso che avete visto finalmente il cartellone Vi starete chiedendo a che cosa serve E perché ne siamo tanto felici? Beh, come potete vedere È un tipico cartellone da negozio E infatti prestissimo lo troverete nei migliori negozi Quindi ragazzi, se lo vedete in giro Fatevi una foto e fatecelo vedere Siamo curiosissimi E perché questo cartellone si trova qui? Beh, perché qui in casa nostra abbiamo allestito un negozio In questo momento nel nostro salone c'è un vero e proprio negozio Ma non è un semplice negozio È un negozio dei d'insieme Fatto interamente di cose dei d'insieme Siete pronti a vederlo? Ta-da! Siete pronti a vederlo? Buongiorno ragazzi! Io sono Eri E io sono Dominique E che siamo? Dino che siamo? Dino insieme! Dino insieme! Dinsieme! 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 Stop, stop, stop! Vieni qui, vieni qui! Oggi abbiamo tantissime cose da dirvi e da farvi vedere Siamo super felici e super emozionati Perché attorno a noi ci sono tantissime cose che vedete per la prima volta E noi non vedevamo davvero l'ora di farvele vedere Sono tutte cose a cui stiamo lavorando da tantissimo tempo Tutto quello che vedete attorno a noi lo abbiamo fatto noi Scegliendo con cura ogni dettaglio Dai disegni, ai colori, alle forme, tutto quanto E speriamo davvero che vi piaccia tutto Ma prima di farvi vedere tutto nel dettaglio c'è un'altra sorpresa Non solo abbiamo aperto questo negozio in casa nostra Ma abbiamo aperto anche un vero negozio Nella vita reale online Apre finalmente oggi il nostro shop ufficiale online Lo trovate su dinsieme.it Andatelo a vedere, è bellissimo Basta scrivere dinsieme.it Vi lasciamo anche il link in descrizione Già da adesso lì trovate tutto quello che abbiamo attorno O spedizione veloce in tutta Italia E presto tantissime cose State a guardare perché sarà in continuo aggiornamento E in più, altra super sorpresa Tutte queste novità dei dinsieme che abbiamo attorno Oltre a trovarsi nel nostro shop ufficiale online Si troveranno anche nei migliori negozi Proprio in questi giorni li stanno consegnando E stanno arrivando ovunque Li potrete trovare nei migliori supermercati Come ad esempio i Conad, i Deco e tanti altri Ma anche nei migliori negozi di calzature Come Pittarello, Pittarosso, Globo e tantissimi altri Ma anche in tantissimi negozi e catene di negozi In continuo aggiornamento Quindi state a guardare e guardatevi attorno E adesso è il momento di farvi vedere tutto quanto È davvero tutto stupendo E c'è davvero di tutto E voi ragazzi lasciate like qui sotto a questo video Se siete super contenti come noi di tutte queste novità E siete super curiosi E iscrivetevi al canale attivando la campellina Per non perdervi nulla E adesso seguitemi Benvenuti ufficialmente nel primo e unico negozio dei d'insieme Da questa parte abbiamo allestito uno scaffale È davvero stupendo C'è davvero di tutto E guardate qui Una cosa che adoro Ci sono le borracce Sono finalmente arrivate le borracce dei d'insieme Le stavate aspettando con ansia Ed eccole qui Sono in alluminio Sono super resistenti Hanno il tappuccio in plastica E ovviamente sono riutilizzabili e lavabili Trovate due varianti Quella azzurra con noi cartoon Ma anche il dottor Timothy e il dottor Genio Col tappuccio giallo E quella rosa col tappuccio azzurro Con le nostre foto Il nostro logo Su tutti i lati Riconoscerete tutti i nostri prodotti ufficiali Anche grazie all'etichetta Abbiamo anche tutto l'espositore Non è bellissimo? Che stai facendo? Avevo sete E in più ci sono le nostre tazze In due modelli Una con noi cartoon E una con la nostra foto Guardate Le confezioni sono sempre con le nostre foto E i nostri colori In questa ci sono le nostre foto Su tutti i lati E in questa qui Che è più grande Ci siamo noi E il dottor Timothy E il dottor Genio Non è bellissima E poi guardate Ci sono un sacco di zaini e borse Guardate quanti E lì ce ne sono altri Che sono ancora impacchettati C'è lo zainetto Guardate quanto è bello In due versioni Rosa e azzurro Questi sono ideali per il tempo libero Per lo sport O per le passeggiate Sono leggeri Piccoli e comodi Ma sono anche super capienti Ci sono ben due scernieri Una più grande E... L'abbiamo riempiti con la carta Per farveli vedere E un'altra cerniera sul davanti E guardate le cerniere Sono personalizzate Con la nostra scritta Di insieme E in più se li giro Da da Anche il retro È fantastico Qui ci siamo ancora noi E qui invece Il dottor Genio E il dottor Timothy Sono disegnati Da entrambi i lati E poi Ci sono anche le sacche Anche queste Anche queste Hanno due lati super belli Qui ci siamo noi E qui Timothy e Genio Vi piacciono? Guardate quanto sono lucenti E colorate E poi c'è tutta la collezione Delle borse Super comode E super fashion Queste Le ho fatte io Iniziamo da quella grande Anzi Grandissima Guardate qui Questo è un vero e proprio borsone Utilissimo per lo sport Ha due manici Ma anche la tracolla regolabile Guardate che belli Questi manici Con la scritta ed insieme E anche la cerniera Come in tutti i prodotti È spaziosissimo E qui c'è voluta Tanta calda Tanta plastica E non è nemmeno pieno E non so se riuscite a vederlo Ma guardate come luccica la stampa Non è bellissima Guardate che colori E poi c'è anche la stessa borsa Uguale La stessa versione Ma più piccola Guardate qui Poi abbiamo quella forma di cuore Carinissimo Guardate Con il contorno luccicante E la tracolla con scritto d'insieme Luccica anche sul retro E non è finita qui Ci sono altre borsette Con lo stesso disegno Ma in forme diverse Guardate questa Piccola e quadrata E poi questa Con la tracolla E per finire C'è uno zainetto più piccolo Con una sola cerniera Ma anche questo Con due lati Anche questo guardate come luccica Non è fantastico Guardate quante Qual è la vostra preferita Io davvero non riesco a scegliere Sono tutte bellissime Dipende dalle occasioni Infatti ne ho davvero tantissime Guardate lì quanto ce ne è impacchettate Se devo portare poche cose Porto questa È super fashion C'è il nostro nome anche nella busta Ma se devo allenarvi Meglio prendere quella gigante Io preferisco il mio zainetto È super comodo Per tutte le occasioni E poi Ci entra tanto cibo E poi lo avrete già notato Non è bellissimo Uno zainetto Ma trolley Con le ruote Guardate Questo è davvero super super capiente E anche due tasche laterali Ottime per la borraccia E quando non vuoi le ruote Ci sono sempre gli spallacci E guardate quanto è bello il disegno Li avete notati? E poi abbiamo pensato a qualcosa di super originale Gli occhiali da sole Guardateci Ci sono le nostre faccine E la scritta di insieme Sono entrambi i lati C'è l'intero espositore Li trovate con la custodia In due varianti Questa qui tra farente E questa rosa Anche la custodia è personalizzata Guardate Ed ecco qui i nostri occhiali da sole Eccoli qui entrambi Io adoro quello rosa Quale preferite? Ma non è finita qui Perché la nostra collezione di occhiali da sole Ha anche altri modelli Guardate Abbiamo allestito questo manichino Facendogli un strano vestitino Non pensate? Qui in alto ci sono altri occhiali In altre due versioni differenti Guardate il retro del manichino Ha un reparto segreto Eccoli qui Qui sono già aperti Ci sono quelli rosa e gialli E quelli gialli e azzurri Anche questi sono super decorati E ci siamo noi in versione reale Siamo noi E il nostro logo In entrambi i lati Sia in quelli gialli e azzurri Che in quelli rosa e gialli Non sono super fashion E io come sto? Sono abbinati alla maglia Ehi Link Ma questi ti stanno piccoli E sempre in questo manichino carinissimo Avrete notato anche questi Portafoglio e portamonete Guardate questi sono perfetti da abbinare insieme alle borse e gli zainetti Un comodissimo portamonete Da un lato noi e dall'altro Timothy e Ginio E un portafoglio super fashion Guardate come luccica Anche qui ci sono Ginio e Timothy La cerniera è personalizzata E dentro è spaziosissimo e luccicante E queste sono tra le mie cose preferite Sono gli infradito E ne esistono di tantissimi modelli Guardate che belli Guardate quante Wow Guardate tutta la collezione Sono ben sei modelli diversi Tutti super colorati E poi tutti sono super resistenti Sono doppi Morbidi e comodissimi La striscia è in gomma Ed è in tutte super luccicante Con la scritta di insieme In colori diversi Quattro modelli sono con i nostri personaggi cartoon In alcuni sto mangiando In altre invece fai l'occhiolino Anch'io qui faccio l'occhiolino Queste sono le mie preferite in assoluto Rosa chiaro Con tutti i disegnini colorati Wow Ma anche quelle fucsie Guardate che belle E poi ci sono quelle azzurre E quelle gialle Wow E le misure più piccole Hanno tutte l'elastico Guardate E in altri due modelli diversi Ci sono le nostre foto Guardate qui Ci siamo noi Quindi praticamente Quando indossate queste Mi schiacciate Ai Fate piano E' vero Ci schiacciate col piede Sono tutte bellissime Qual è la vostra preferita? La mia preferita è questa gialla Perché mangio Ne abbiamo una scatola intera Tutte impacchettate Di tutte le misure Ma aspettate un momento Oltre lei infradito Ci sono anche altre ciabatte stile Ci sono quelle aperte E anche quelle chiuse E ci sono anche quelle con la nostra foto Super colorate E avrete sicuramente notato queste altre cose Queste qui saranno disponibili Tra pochissimo Abbiamo il telo mare Guardate E' bellissimo Wow E' super colorato Noi siamo giganti Lo adoro Ovviamente E' in spugna super morbida Sì ma non ti vediamo così Sì giusto Già E' davvero morbidissimo E abbinato C'è anche il poncio Dello stesso tessuto Super morbido E' perfetto per il mare Super colorato Ovviamente C'è anche il cappuccio E questa qui infine E' la tovaglietta per la colazione Ma anche per il pranzo La merenda Per tutto Potrete mangiare insieme a noi Io la userò continuamente Anche questa è super morbida Ed è lavabile E insieme a loro Arriveranno tra pochissimo Anche i cappellini Uno azzurro E uno rosa Guardate che belli Ci siamo noi E' il nostro logo Guardate che bello questo Lo adoro E c'è anche questo Con la nostra foto E con le paillettes Reversibili Guardate Guardate quanto è super luccicoso Wow Lo so Sono davvero tantissime cose Sono tutte wow Ma Non abbiamo ancora finito Ci sono anche I vestiti Guardate qui Sono tornate finalmente Le nostre maglie Quelle bianche Che conoscete già Con il nostro logo Ma adesso ci sono anche Rosa E azzurro Guardate Non solo Bellissime Sono due colori fantastici Ma quella L'avevate già vista La sto indossando Poi c'è quella Che sto indossando io Con tutti i personaggi E poi C'è anche la felpa Gialla Super colorata E anche lei Con tutti i personaggini Guardate che belli La stampa è fantastica E super lucente Tutte le maglie E le felpe le trovate solamente Nel nostro shop online Sempre D'insieme Punto it E ovviamente Trovate tutte le misure Oh Quelle piccole Sono carinissime Guardate che belle Ma ci sono anche Quelle grandi Come quella che ho io Le riconoscete anche Dall'etichetta interna In tessuto Con logo ricamato Guardate che bello E dal cartellino Con la nostra foto Ah E quasi quasi Stavamo per dimenticare Il nostro angolo Del negozio dedicato ai libri C'è anche il cartonato Quello lo trovate Nelle librerie L'avete già visto Col nostro nuovo libro E il viaggio leggendario Di Eric e Dominic Che come sapete Trovate in tutte le librerie Ma anche online E su Amazon E poi Abbiamo anche Il nostro primo libro Anche questo Lo conoscete molto bene Anche questo È super bello E super divertente E per chi Non l'ha ancora preso O ancora Magari Nemmeno ci conosceva Un anno fa Lo potete trovare Sempre in tutte le librerie E online Ma Lo trovate anche Sul nostro sito Dinsieme.it Ed è Autografato Guardate qui Il nostro sito È l'unico posto Dove potrete Trovarli autografati Da noi Col penarello Qui E così Vi abbiamo mostrato Finalmente Tutto il nostro negozio Cosa ne pensate Qual è la cosa Che vi ha colpito di più Noi pensiamo davvero Che sia tutto fantastico Speriamo vi piaccia E davvero Non vediamo l'ora Di vedervi Con queste cose Quindi Ogni volta che prendete qualcosa Fatevi una foto E pubblicatela su Instagram Taggateci La vedremo Vi lasceremo like E la ripubblicheremo Perché davvero Ci rende super felici E super emozionati Vedervi con le nostre cose Come è già successo Con i nostri libri Vi ricordiamo Come è già detto Che trovate tutte Tutte queste cose Sul nostro sito Il nostro nuovo shop ufficiale D'insieme.it Vi lasciamo il link In descrizione E' super bello Andate Prendendole lì Vi arriveranno Con spedizione veloce In tutta Italia Ma li trovate Anche nei migliori negozi E adesso Dominique Posso finalmente Scombinarti il negozio E prendere tutto Quello che mi piace E portarlo via Cosa? Diciamo Vuoi scombinarli? Oh sì No Aspetta Ma no Ci ho messo tanto Dalle stigioni Non ti preoccupare Ma no La tua vetta La volevo io Vabbè Allora io mi prendo Il borsone Questo Se li prendi tu Li prendo anch'io La maglia rossa E anche quella gialla Il sacco è mio La sacca è mia Ok Devo andare in piscina E l'infranito Allora il borsone Ciao ragazzi D'insieme D'insieme D'insieme